Musica Bella a tutti ragazzi, eccoci qua sul canale di GeneticDNA e continuiamo le avventure di The Last of Us Il diciottesimo appuntamento Buona visione raga Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa Gli hanno gli occhi aperti Ci avevo già pensato Ma quando è in acqua la questione è diversa Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti Bene Ehi Ellie, mi sa che abbiamo trovato qualcosa Scommetto che arriva fin dall'altra parte Ok, insieme, forza Ok, dai ragazzi, via Ok, grazie Dai, dai Ehi, fuori le torce Certo, resta Qualcuno sta imparando, finalmente No No Ok, guardiamo da questa parte Non mi piace Non mi piace Se riesce Ciò dentro e sblocco la porta Oh, che cavolo, che ratto enorme Non mi piace Beh, non lo so. Dovremmo vedere queste cose. Ehi, di qua! Allora! Possiamo uscire da qui. Non c'è modo di arrivarci. Beh, io non so nuotare. Allora, sono qui. Dobbiamo inventarci qualcosa. È incastrato. Ehi, questo affare è su una specie di binario. Non posso... Non ci arrivo. Non ci arrivo. Non ci arrivo così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettate lì voi. Grazie a tutti. 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 Oh, merda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a tutti. Andiamo a tutti. No, ecco fatto. Grazie a tutti. Andiamo a tutti. Andiamo a tutti. Andiamo a tutti. Andiamo a tutti. Fantastico. Andiamo a tutti. Andiamo. Andiamo. Andiamo a tutti. Andiamo. Andiamo a tutti. Andiamo a tutti. Andiamo. 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 Andiamo.